Allora, l'Avvocatola Torraca ha trattato prima delle procedure di scelta del contraente, vale a dire dei procedimenti che devono essere utilizzati per assicurare una competizione più o meno ampia in vista della scelta dell'aggiudicatario. I criteri di scelta del contraente quindi sono in definitiva degli strumenti per arrivare all'individuazione di una platea di operatori che hanno i requisiti previsti dal bando di gara tra i quali poi sulla base dei criteri di aggiudicazione verrà scelto l'aggiudicatario che ha presentato la migliore offerta. I criteri di aggiudicazione, non rifaccio la storia che ha già fatto l'Avvocatola Torraca per dire sostanzialmente che forse sono la parte del codice sulle quali l'atteggiamento culturale del legislatore ha avuto maggiore influenza, nel senso che a un primo periodo storico rappresentato dalla legge Merloni del 109 del 94 nella quale si reputava come necessario appunto a fini di contrasto dei fenomeni corruttivi che il criterio di aggiudicazione fosse quanto più possibile oggettivo e predeterminato e quindi in definitiva l'unico criterio possibile per escludere totale discrezionalità della stazione appaltante era dato dal criterio del minor prezzo ed era come ricorderete l'unico criterio immessibile se poi passate ad una fase successiva nella quale il criterio del minor prezzo anche per effetto di un pronunciamento chiarissimo della Corte di Giustizia comunitaria era stato messo in una condizione di equivalenza ai fini della scelta rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ricordiamo che il codice del 2006 era entrato in vigore ancora con una scelta che prioritariamente portava verso il minor prezzo successivamente con una modifica introdotta a seguito del pronunciamento della Corte di Giustizia del 2008 invece i due criteri, quelli del minor prezzo, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità prezzo erano stati rimessi su un piano di parità sostanzialmente e rimessi alla valutazione discrezionale per quanto riguardava la scelta appunto della stazione appaltante il codice nuovo invece inverte totalmente il rapporto nel senso che come criterio generale e prioritario da quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa vediamo questa scelta chiaramente descritta nell'articolo 95,2 per ragioni sistematiche vi dico che le norme che disciplinano i criteri di aggiudicazione sono il 95, il 96 e il 97 nel nuovo codice l'articolo 95,2 stabilisce che le stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento procedono alla giudicazione degli appalti e dei concorsi di idee che comunque sempre appalti sono quindi non si capisce neanche la distinzione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che può essere individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o sulla base dell'elemento prezzo del costo seguendo un criterio di comparazione costo efficace a quale il costo del ciclo di vita poi andiamo a vedere con questa seconda parte cosa significa ma il principio che si ricava dall'articolo 95,2 è che il criterio generale e prioritario ai fini dell'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa è che il criterio invece residuale, accessorio, subordinato è quello del minor prezzo il criterio puramente economico poi del prezzo può fare riferimento a due diversi parametri alternativi il prezzo in senso proprio e quando parliamo di prezzo intendiamo il semplice corrispettivo della fornitura, del servizio o del lavoro oppure il costo il concetto di costo invece è un concetto che traiamo dalla letteratura economica e che guarda sostanzialmente al prezzo non come semplice corrispettivo per l'acquisto ma come costo determinato attraverso la sommatoria di tutti i costi che il ciclo di vita del prodotto genera dalla sua fase di progettazione alla fase di commercializzazione alla fase successiva di manutenzione e addirittura la successiva fase di recupero e smaltimento l'ipotesi tipica per esempio ci ritorneremo magari per approfondire un po' l'argomento è quello delle fotocopiatrici dei prodotti legati all'informatica che hanno talora un costo di smaltimento che addirittura è superiore al costo di acquisizione l'introdurre nel nuovo codice il concetto del prezzo inteso come costo significa sostanzialmente determinare l'aggiudicatario e quindi la migliore offerta rendendo conto del costo complessivo del prodotto che acquistiamo e non semplicemente del costo della transazione necessaria all'acquisto e l'altro parametro invece è quello del miglior rapporto qualità prezzo e che come sapete conosciamo col termine offerta economicamente più vantaggiosa accanto all'introduzione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio generale è poi accompagnato dall'indicazione di una serie di ipotesi in cui questo criterio deve essere necessariamente applicato si tratta di una serie di ipotesi contemplate dall'articolo 95,3 in cui ha maggiore rilevanza l'elemento personale l'elemento personale si intende non l'elemento soggettivo ma l'incidenza che su quegli appatti ha la mano d'opera essenzialmente si tratta dei contratti relativi ai servizi sociali che troviamo normati nell'articolo 140 i servizi di ristorazione, ospedaliera, assistenziale e scolastica che troviamo normati nell'articolo 142 e 143 del codice e poi i servizi ad alta intensità di mano d'opera che vengono definiti dal codice stesso come quei servizi in cui l'incidenza della mano d'opera supera, è pari o superiore al 50% dell'intero importo contrattuale un'altra tipologia di affidamenti per i quali il criterio dell'offerta economicamente più vantaggioso è obbligatorio è quello dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi di natura tecnica e intellettuale che il cui importo sia pari o superiore secondo tra l'altro la modifica introdotta con il correttivo a 40.000 euro invece, essenziali del comma 4 vi sono dei casi in cui può essere scelto il luogo del criterio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa è quello del minor prezzo quali sono questi casi? sono innanzitutto per quanto riguarda i lavori gli affidamenti che siano di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro questa condizione che l'affidamento dei lavori avvenga sulla base di un progetto esecutivo e che la stazione appartante preveda nel bando di gara l'applicazione del procedimento di esclusione automatica dell'offerta anomale quindi devono ricorrere contemporaneamente queste due condizioni poi per i servizi e le forniture che hanno caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato ed infine l'ultima ipotesi anche qui è intervenuta il correttivo ad introdurre una soglia di 40.000 euro come soglia che per i servizi e le forniture consente il ricorso al criterio del minor prezzo e invece per le forniture e servizi che sono di importo pari o superiore a 40.000 euro fino alla soglia comunitaria a condizione però che siano caratterizzati dal carattere dell'elevata ripetitività e con l'eccezione nonostante siano ripetitivi degli affidamenti relativi a prodotti o a servizi che abbiano contenuto carattere innovativo o notevole contenuto tecnologico mi fermo un attimo cercando di rimanere in tempi dignitosi su alcune questioni che nell'applicazione e sono tante purtroppo che nell'applicazione di questa norma sono sorte in primo luogo per quanto riguarda la scelta dell'uno e dell'altro criterio la circostanza è che volevo permettervi che su questa parte è intervenuta l'ANAC con delle linee guida che non hanno carattere vincolante quindi ma solamente carattere orientativo al fine di introdurre di raccomandare delle best practice nella materia dell'offerta economicamente più vantaggiosa ma ovviamente la ricostruzione del contesto normativo in cui quelle linee guida si inserivano ha consentito all'ANAC di dare precise indicazioni anche per quanto riguarda la scelta dei due criteri allora la circostanza che l'articolo 95,2 utilizzi il termine può scegliere la stazione appartante può scegliere il criterio del minor prezzo ha ovviamente indotto a dire l'ANAC ma anche la giudisprudenza come andremo poi a vedere che essendo la scelta frutto di un potere discrezionale che l'amministrazione esercita questa scelta deve essere puntualmente e adeguatamente motivata questo soprattutto è ragione del fatto che il criterio del minor prezzo comunque costituisce una scelta che è eccezionale derogatoria subordinata rispetto alla scelta del criterio generale che abbiamo detto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ma questo perché cogliendo anche lo spirito della novità che il legislatore introduce vale a dire la scelta come criterio generale del prioritario dell'offerta economicamente più vantaggiosa è legata ad una direttrice ideale che caratterizza diversi istituti caratterizzati dalla novità del codice e che vanno per esempio dalla qualificazione delle stazioni appaltanti al nuovo ruolo rinforzato che il RUP assume ad altri interventi che spingono sostanzialmente ad elevare la qualità degli affidamenti delle pubbliche amministrazioni elevare la qualità degli affidamenti delle pubbliche amministrazioni significa sostanzialmente che cosa? scegliere tra i vari criteri di aggiudicazione quello che fa cogliere meglio il merito tecnico la qualità l'innovatività delle proposte delle offerte che vengono acquisite in sede di gara questa è la ragione concettuale per la quale il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stato individuato come il criterio fondamentale il criterio generale e invece il minor prezzo a cui si lega in qualche modo una come dire una che è un sistema matematico di aggiudicazione è considerato invece individuato come criterio residuale ed eccezionale dicevo che per quanto riguarda la questione della motivazione c'è già una copiosa produzione giurisprudenziale che io francamente non pensavo accadesse ed invece soprattutto l'avere nelle prime sentenze come dire manifestato l'orientamento secondo secondo cui la scelta del criterio di aggiudicazione incide sulla piena legittimità dell'intero procedimento e soprattutto essendo una prescrizione del bando che immediatamente lesiva comporta la presentazione di ricorso entro i termini di 30 giorni della pubblicazione del bando senza la possibilità di spostare ai 30 giorni della comunicazione della giudicazione della possibilità di ricorso ha già determinato pur essendo solo un anno e mezzo che il codice è vigente una produzione giurisprudenziale di cui ora vi do conto magari in maniera non del tutto diciamo coordinata ad esempio questa sentenza del TAR Lombardia che è abbastanza recente che è del settembre del 2017 e di cui leggiamo assieme il dispositivo dice è legittimo per insufficienza della motivazione per violazione dell'articolo 95 comma 4 il 5 il provvedimento con il quale l'APA appaltante ha indetto ha disparito una gara di appalto di forniture e servizi nella specie si trattava della fornitura di gas medicinali dispositivi medici per la crioterapia eccetera eccetera nel caso in cui abbia motivato la scelta quale criterio di giudicazione nel prezzo più basso facendo esclusivamente riferimento alla standardizzazione delle prestazioni pretese nonché alla richiesta appena di esclusione della certificazione di qualità aziendale infatti il ricorso da parte della stazione appaltante al criterio di giudicazione nel prezzo più basso costituisce una facoltà e non un obbligo per la stazione appaltante frutto di una scelta discrezionale che deve essere congruamente motivata ecco questa è una prima sentenza la vediamo possiamo vedere anche altre vedete per esempio questa sentenza del Tar Basilicata sezione prima in cui si dice e anche questa molto molto recente scusatemi ma non sono riuscito a fare i collegamenti cioè ero riuscito di essere a fare i collegamenti ipertestuali poi ho occupato il file e siccome come ricordava stamattina l'avvocato la torraca io appartengo all'era analogica delle candele vergini e non a quella digitale l'operazione copiatura non mi è riuscita quindi ci attrezziamo in questo modo quindi anche questa sentenza è coeva all'altra del Tar Lombardo e dice è illegittimo il provvedimento con il quale l'APA appaltante ha indetto una gara per l'affidamento di un appalto di servizi nella specie si trattava del servizio di pulizia sanificazione ad usiliariato nella parte in cui nonostante che si tratti di un appalto cosiddetto ad alta intensità di mano d'opera abbia scelto quale criterio di giudicazione è quello del massimo ribasso in forza di quanto previsto nell'articolo 95 nel caso di appalti di servizi ad alta intensità di mano d'opera abbia osservato come criterio direttivo quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio del prezzo del costo inteso come criterio del prezzo più basso ora questa sentenza prende un altro aspetto di cui parlerò dopo che è quello del rapporto tra il comma 3 e il comma 4 dello stesso articolo 95 in ogni caso anche in questa sentenza viene sottolineata l'esigenza di una puntuale e rigorosa motivazione sulla scelta del criterio del minor prezzo rispetto a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa che non può limitarsi dice l'ANAC e la giurisprudenza all'indicazione apodittica della norma di legge che lo consente ma deve essere accompagnata dall'indicazione di tutti gli elementi fattuali e puntuali che manifestano appunto concretamente le ragioni l'esistenza delle ragioni per le quali io scelgo un criterio che ha carattere eccezionale rispetto al criterio generale voluto appunto dal legislatore del nuovo codice cosa si intende questo serve a fare il passo immediatamente successivo nell'esposizione per forniture per servizi e forniture con carattere standardizzato o le quali condizioni sono definite dal mercato ci aiutano le linee guida numero 2 di ANAC a dare una definizione diciamo compiuta l'espressione è tratta proprio dalle linee guida numero 2 quindi possiamo leggerle assieme perché è anche di facile intuizione e comprensione quindi devono intendersi per forniture con caratteristiche standardizzate le quali condizioni sono definite dal mercato quei servizi o forniture che anche con riferimento anzi direi soprattutto con riferimento alla pressione produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure rispondono a determinate norme nazionali europei e internazionali la ragione per cui in questo caso la norma consente di scegliere il criterio del minor prezzo è di facile intuizione vale a dire non ha senso obbligare la stazione appaltante a ricorrere ad un criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa che è impegnativo dispendioso defaticante per certi versi quando tante sono le offerte presentate quando poi non ci sono spazi di miglioramento effettivo nel prodotto che ti offrono nel servizio che ti offrono perché i prodotti che si trovano sul mercato in quanto standardizzati hanno tutte le medesime caratteristiche non suscettibili di miglioramento su richiesta della stazione appaltante allora in questo caso il legislatore dice essendo il mercato costruito o caratterizzato da prodotti che non possono essere migliorati per volontà della stazione appaltante e allora il criterio di scelta che può essere utilizzato è legittimamente quello del minor prezzo una situazione una giustificazione tuttosimile sia nell'altra categoria di forniture e servizi per le quali è possibile il ricorso al criterio del minor prezzo le forniture e servizi caratterizzati da elevata ripetitività quali sono quelli che ovviamente che soddisfano esigenze di funzionamento dell'amministrazione che hanno carattere continuo si tratta dei contratti di somministrazione di prodotti che utilizziamo di bene o servizi che utilizziamo per far quando la mattina entriamo in comune in provincia apriamo il tutto funziona perché abbiamo una serie di contratti di somministrazione senza i quali non sarebbe possibile nemmeno erogare i servizi alla collettività questo è il campo di applicazione di questa norma faccio riferimento ai contratti per la fornitura del toner piuttosto che ai contratti per la fornitura della carta per le fotocopiatrici insomma tutti i contratti della carta igienica vogliamo andare in un campo per dire anche da quello dipende il funzionamento delle stazioni appaltanti abbiamo detto dell'obbligo rigoroso di motivazione però ritorno a questo proposito sulle sentenze perché la discrezionalità che ha dato il codice e che noi ipotizziamo di esercitare è in effetti una discrezionalità che esercitiamo falsamente nel senso che la discrezionalità nostra in definitiva viene poi esercitata questo da operatori del diritto possiamo riconoscercelo dal giudice che viene a valutare come abbiamo operato la scelta il fatto che la motivazione che dobbiamo esporre è congrua debba essere congrua debba essere puntuale debba essere ragionevole e che la giustizia amministrativa e il giudice amministrativo abbia un limite nel sindacale e le nostre scelte che è legato a quello della ragionevolezza dell'adeguatezza della motivazione a volte costituisce un grimaldello che mi è capitato di vedere molti giudici usano per rifare la scelta la dimostrazione assoluta di quello che vi sto dicendo è data dalla comparazione di queste due sentenze allora parliamo di un l'affidamento di un servizio che sicuramente ha carattere ripetitivo cioè ogni ente dispone di un parco macchine più o meno ampio questo parco macchine è soggetto all'attività di manutenzione che hanno ora la leggiamo assieme perché è interessante magari non faccio un'esposizione fino all'una da manualistica ma volevo approfondire alcuni aspetti che sono ripeto di particolare interesse in questo momento quindi ogni ente ha un parco macchine in dotazione questo parco macchine richiede interventi manutentivi di carattere banale ad esempio i tagliandi le revisioni biennali l'approccio che abbiamo avuto tutti è nel ritenere che queste attività manutentive siano sicuramente caratterizzate da elevata ripetitività e quindi se stanno al di sotto della soglia comunitaria consentono il ricorso al minor prezzo parto da un'altra sentenza scusatemi spero di averla ecco qua è questa quindi il 18 dicembre del 2017 arriva questa sentenza che è dall'altare Lombardia della sezione Bresciana e che dice è legittimo un bando per l'affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi di un'asra in questo caso comprensivo di prestazioni d'opera di carrozziere elettrauto gommiste e meccanico nella parte in cui senza indicazione di alcuna specifica motivazione prevede quale criterio di giudicazione è quello del prezzo più basso piuttosto che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa atteso che il suddetto servizio rientra appieno nella declaratoria di cui l'articolo 95,3 deve essere aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa questo cosa significa che intendono questo servizio come caratterizzato da elevato contenuto tecnologico ed infatti ho mantenuto la sintesi sono tratte dall'ex Italia questi documenti quindi ci sono anche delle sintesi interessanti ha osservato la sentenza rassegna che nella fattispecie la prestazione richiesta rivela natura complessa pur essendo caratterizzata da marcati tratti di standardizzazione e predeterminazione quanto alle procedure di intervento all'impiego degli occorrenti materiali ed involge soprattutto per quanto concerne la cosiddetta manutenzione straordinaria ad esempio da questo punto di vista la sentenza incorre in un errore cioè sui beni che non siano beni immobili il concetto di manutenzione straordinaria non esiste non esiste né a fini contabili né a fini tecnici e solo manutenzione cioè che io faccia su un computer un intervento di aggiustamento un intervento di sostituzione di un pezzo di ricambio non cambia nulla ai fini della qualificazione dell'intervento non è manutenzione straordinaria una manutenzione ordinaria l'altra in sostanza dice che cosa che l'intervento per fare un tagliando il tagliando è un'opera di alta ingegneria meccanica allora il livello di complessità è tanto tale che io non posso dire che il tagliando ha carattere standardizzato perfetto perfetto se non fosse che a distanza di qualche giorno fa arriva questa sentenza del Tar del Lazio che in un certo qual modo vi posso garantire nei commenti irride alla sentenza del Tar Bersciano perché dice l'esatto inverso dice è legittima una gara per il servizio di rimessa in efficienza veicolo e fornitura ricambistica per automezzi quindi la fattispecie è assolutamente identica analoga nella parte in cui è stato aggiudicato individuato quale metodo di aggiudicazione il criterio del minore prezzo essenzio dell'articolo 95,4 lettera C infatti gli interventi di manutenzione e revisione periodica degli automezzi hanno le caratteristiche di standardizzazione e ripetitività ma cosa avevamo detto fino a un minuto fa lo stesso principio rispetto alle quali gli elementi della manodopera e dell'aspetto tecnologico indubbiamente presenti nello svolgimento del servizio si pongono comunque quale voci inferiori essendo l'elemento prevalente determinante rappresentato nell'appatto in questione dal costo dei pezzi di ricambio aventi caratteristiche fisse e standard con prezzi conosciuti e fissati dai tariffari di mercato la notazione che fa facendo riferimento tra l'altro la sentenza del Lazio conosce della precedente sentenza del Tariffari di Brescia e la critica anche con qualche aspetto come dire ironico vi invito a leggere perché io non ho riportato tutta perché se ne ricava il principio cioè sì va bene che magari l'intervento è particolarmente complesso ma non è un intervento di alta ingegneria meccanica o non è un intervento a cuore aperto di alta chirurgia e un tagliando lo farà il tagliando lo eseguirà anche con l'impiego di strumenti come dire elettronici di diagnosi ma sono alla portata ormai di qualunque operatore ora ad esempio in questo conflitto come ci si orienta per quello che può essere la mia valutazione ha ragione il Tardellazio cioè nel senso che quella norma lo spirito di quella norma che consentiva che consente di fare ricorso al minor prezzo in ragione del carattere ripetitivo dei contratti che affidiamo è una norma di semplificazione quindi potendo scegliere una procedura che sicuramente è caratterizzata da maggiore economicità tenete conto di un fatto che se io affidassi poi con l'offerta economicamente più vantaggiosa vorrei prendere il collegio del Tardibrescio e dire quali elementi quali criteri di valutazione dell'offerta inserisco ai fini di dare un punteggio che ricordatevi deve essere pari ad almeno a 70 io porto l'autovettura per sostituire dei pezzi di ricambio i 70 punti come li costruisco non ci vuole un tecnico non ci vuole una posizione organizzativa non ci vuole un dirigente ci vuole un mago perché lì siamo all'invenzione pura perché 70 punti per fare un tagliando io non saprei come costruirli siamo tutti operatori del settore chi più chi meno teniamo conto ovviamente chi ha maggiore probabilmente invece nel collegio del Tardellazzo c'era qualcuno che aveva in qualche modo vissuto un'esperienza come vittima e non come carnefice da vittima si è ricordato si è detto ma io come avrei fatto un appatto di questo genere 70 punti per un'attività di manutenzione che ha carattere rutinario non li costruiamo perché l'unica possibilità sarebbe quello di dire privilegio i prodotti di quella marca cosa che non possiamo fare oppure privilegio i prodotti ad alta qualificazione mentale come prodotti ecolabel ma sarebbe un unico criterio non ne vedo altri non ne vedo altri ecco quello che dice l'ANAC che si legge anche in queste sentenze è anche questo che nella motivazione della scelta le stazioni abbattanti devono indicare il riferimento ovviamente alla norma di legge che consente di scegliere il criterio del prezzo più basso quindi l'articolo 95,3 nel caso specifico però devono anche dire che la scelta del prezzo più basso non ha vantaggio a un determinato fornitore perché per esempio abbiamo considerato standardizzata delle caratteristiche che invece non lo sono che è un po' il ragionamento che fa proprio il tar di Brescia in quella in quella sentenza di cui che abbiamo letto assieme ovviamente sul tema dell'avere introdotto come criterio prevalente come criterio generale quello dell'afferta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del minor prezzo incombe sempre la pronuncia della Corte di Giustizia di cui vi parlavo poco fa la Corte di Giustizia sostanzialmente era intervenuta su un assetto che era quello introdotto dal Codice dei Contratti che invece privilegiava il criterio del minor prezzo dicendo e no caro Italia tu non puoi fare questa distinzione ma devi attribuire discrezionalità piena alle stazioni appaltanti che devono essere poste nella condizione di scegliere l'uno o l'altro criterio in relazione a quella che è la natura dell'affidamento le caratteristiche del prodotto o della fornitura che intendono richiedere e le altre esigenze particolari connesse ai bisogni che la pubblica amministrazione appaltante intende soddisfare questa discrezionalità che la Corte di Giustizia auspicava fosse introdotta nel nostro ordinamento lo è stata per il tempo intercorrente tra il 2009 e il 2016 come abbiamo detto il Codice dei Contratti invece ripristina una situazione di disparità tra i due criteri possibili non è stato promosso alcun ricorso verso questa norma però non sarei del tutto sicuro che qualora la questione venisse riproposta dinanzi alla Corte di Giustizia della Comunità Europea il sistema prescelto come dire la scelta fatta dal legislatore del 2016 sia ritenuta conforme alle norme del trattato questa l'abbiamo visto abbiamo detto che su questa materia sono intervenute le linee guida di ANAC la numero 2 si tratta di linee guida non vincolanti ma di orientamento che come sapete l'ANAC emana essenza dell'articolo 213 comma 2 del nuovo codice dei contratti e che dice l'ANAC ha una valenza essenzialmente matematica vuole orientare nella gestione dei criteri di aggiudicazione visti dal punto di vista della costruzione della griglia dei criteri di valutazione della determinazione dei punteggi e dei criteri con cui i punteggi vengono poi attribuiti ai fini della formazione della gradutore finale in effetti così non è perché le linee guida di ANAC ricostruiscono il contesto anche dal punto di vista normativo e danno indicazioni che sono di tipo prettamente giuridico e non solo matematico abbiamo detto che vengono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i contratti relativi ai servizi sociali ristorazione ospedale assistenziale scolastica nonché i contratti ad alta intensità di mano d'opera e poi i contratti relativi all'affidamento dei servizi di gnonieria e gli altri contratti di natura intellettuale purché di importo pari o superiore a 40.000 euro ora abbiamo visto quindi che questo è un caso in cui l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è considerato come obbligatorio abbiamo visto che però ai sensi del comma 4 vi sono dei casi in cui invece il minor prezzo è consentito per le forniture con caratteristiche standardizzate e per quelli caratterizzati da ripetitività cosa succede nell'ipotesi in cui il contratto che dobbiamo affidare ha le caratteristiche assieme del terzo e del quarto comma esempio tipico forniture con caratteristiche standardizzate che quindi potremmo affidare con il minor criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 ma che presentino alta intensità di mano d'opera ad esempio le manutenzioni di cui parlavamo prima quindi nell'ipotesi del tagliando dell'autovettura che non comporta sostituzione dei pezzi di ricambio quindi in cui l'incidenza sostanzialmente della fornitura è irrilevante ma l'attività è totalmente di mano d'opera e quindi supera il 50% quale criterio applichiamo? Applichiamo facciamo prevalere il carattere di ripetitività dell'affidamento del contratto dell'appalto oppure essendo quell'affidamento caratterizzato per più del 50% dalla mano d'opera facciamo prevalere la norma che ci obbliga in questo caso all'offerta economicamente più vantaggiosa allora qui il ventaglio delle soluzioni è stato in giudice prudenza già tutto praticato perché? C'è una sentenza del Tar Reggio Calabria poi questa documentazione ve la do in maniera tale che se volete leggere le sentenze ovviamente nella persona integrale potete farlo una prima sentenza del Tar Reggio Calabria che considera prevalente il comma 4 sulla base di quale principio perché tutti risolvono il chi considera prevalente il criterio del minor prezzo lo risolve sulla base del principio di specialità dell'articolo 15 delle preleggi vale a dire il criterio generale voluto dal codice è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa i casi in cui è obbligatorio all'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi servizi sociali assistenziali ristorazione non sono altro che applicazione di un'applicazione specifica del principio generale quindi non è questa norma speciale ma la norma speciale è quella del comma 4 in cui si dice che in deroga al principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa si può ricorrere al criterio del minor prezzo quando la fornitura il servizio ha caratteristiche standardizzate ovvero nell'ipotesi in cui sia caratterizzato l'elevata ripetitività il rapporto tra norma generale e norma speciale porta a considerare prevalente ai sensi dell'articolo 15 delle preleggi la norma speciale e quindi a considerare praticabile il minor prezzo questo principio applicano la sentenza del tar di reggio calabria della 166 del 2017 e sia pure con qualche sfumatura diversa perché dice ah ma bisogna in concreto verificare se stiano complementari eccetera eccetera anche la sentenza del tar abruzzo del gennaio 2017 la numero 30 la sentenza del tar del lazio invece aderisce del 13 dicembre 2016 considera prevalente il comma 3 perché dice in questo caso non è dato applicare il principio della specialità perché il rapporto è della prevalenza tra valori in competizione quindi nel momento in cui io ho un contratto che è caratterizzato da alta intensità della manodopera ho un contratto ho un affidamento che come dire è diretto a soddisfare i bisogni ad alta sensibilità collettiva quali sono i servizi sociali la ristorazione assistenziale collettiva eccetera eccetera devo far prevalere i valori il valore della tutela della manodopera quindi il comma 3 automaticamente diventa prevalente sul comma 4 questo orientamento ha proprio recentissimamente ha avuto l'avallo del Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza del Lazio la leggiamo assieme non ho saltato le altre tre perché già insomma le avevo sinteticamente accennate però sostanzialmente che cosa dice questa sentenza del Consiglio di Stato che è illegittimo il bando ad un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera nella specie si trattava di una procedura aperta per l'individuazione di un'agenzia per il lavoro interinale aggiungerei io co'è fidale per due anni la somministrazione di personale infiammeristico e tecnico sanitario per il quale è stato previsto il criterio del prezzo più basso mentre secondo quanto chiarito dall'articolo 50 del nuovo codice va invece previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come che motiva questa soluzione il codice dei contratti si dice è pacifico lo leggiamo assieme perché è di particolare interesse e perché comunque ci dà una ovviamente non è che le sentenze pesano in relazione all'organo che le emette perché il peso è dato dal dal canone della motivazione quindi la sentenza del Tar Basilicata potrebbe in termini di motivazione valere molto di più passare molto di più la sentenza del Consiglio di Stato però ovviamente essendo la questione già dibattuta e assolvendo comunque il Consiglio di Stato una funzione che potremmo dire latamente nomofilattica anche se le sentenze sono emesse non dall'adulanza plenaria ma dalla singola sezione non c'è dubbio che la ricostruzione che fa il Consiglio di Stato pesa molto nella scelta quindi nell'ipotesi in cui vi si prospetti un dubbio come quello che stiamo esaminando del rapporto tra il 3 il comma 3 e il comma 4 vi inviterei ad adottare questa soluzione quindi a verificare se l'appalto pur avendo carattere standardizzato ripetitivo ha l'incidenza della manodopera superiore al 50% scegliamo la soluzione dell'offerta economicamente più vantaggiosa il Consiglio di Stato cosa dice è pacifico nel caso di specie ricordiamo che si trattava di un appalto di servizi per l'affidamento di un contratto di somministrazione di manodopera infermieristica nel caso specifico si tratta di un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera secondo quanto chiarito dall'articolo 50 del codice che stabilisce che sono ad alta intensità di manodopera i contratti come abbiamo detto in cui la manodopera incide per più del 50% dell'importo contrattuale l'amministrazione in questo caso che cosa aveva ritenuto che essendo la fornitura di personale una fornitura che ha carattere continuativo ripetitivo e che comunque sta all'interno della standardizzazione perché un infermiere è un infermiere non è che io posso migliorarlo nell'offerta tecnica banalizzo scusatemi se banalizzo la questione ma così è il Consiglio di Stato dice l'assunto è radicalmente erroneo il rapporto nell'ambito dell'articolo 35 nell'articolo 95 comma 3 casi di esclusivo utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del comma 4 casi di cui in cui è possibile l'utilizzo del minor prezzo tra i quali quello di servizi ripetitivi e di specie a genere riporta il concetto sul rapporto di specie a genere però dice ovvero ricorrono le fattispecie di cui al comma 3 scatta un obbligo speciale di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che a differenza dell'ordinaria preferenza per tali criteri o fatti in via generale dal codice non ammette d'eroge nemmeno a ricorrere della fattispecie di cui al comma 4 e a prescindere dall'entità dello sforzo motivazionale dell'amministrazione cioè dice è inutile la stazione appaltanti che per aderire alla soluzione che per voi è più comoda a quello del minore prezzo vi arrampicate sui vetri vi arrampicate sugli specchi per cercare delle motivazioni perché il fatto che non la legge il codice dei contratti ma la direttiva comunitaria da cui questa norma promana abbia utilizzato il termine esclusivamente cioè gli appalti ad alta intensità di mano d'opera possono essere aggiudicati esclusivamente attraverso il criterio dell'afferta economicamente più vantaggiosa non rende possibile il ricorso alternativo al criterio del minore prezzo questa è la chiave di lettura e io ritengo che sia una chiave di lettura corretta sull'argomento del credo che l'argomento sia ormai come dire abbiamo approfondito adeguatamente inutile stare a leggere altre sentenze che introducono altre questioni fuoriusciamo dal magari poi ci ritorniamo in un'altra in un'altra occasione quindi come si sceglie l'indicazione per quanto riguarda la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il codice dell'articolo 95 96 97 stabilisce dei criteri dei criteri che sono l'applicazione dei principi di trasparenza del principio di parità di trattamento e del principio di non discriminazione che sono assunti dalla direttiva comunitaria come principi fondanti della scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che vengono riprodotti pari pari dal codice dei contratti all'articolo 95 questi tre criteri che cos'è che impongono impongono che innanzitutto gli elementi che io scelgo per valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa devono essere strettamente inerenti alla natura dell'oggetto dell'appalto perché indicare dei criteri che sono estranei all'oggetto dell'appalto o che sono accessori rispetto a quello che è la natura dell'appalto significa sostanzialmente operare una scelta dell'offerta che si caratterizza per violazione del principio di discriminazione cioè vado a valutare a scegliere l'aggiudicatario che mi offre che mi fa un'offerta i cui parametri non migliorano il contenuto qualitativo del bando del capitolato che io ho messo in gara nella documentazione di gara deve essere poi indicata in maniera compiuta e puntuale i criteri di aggiudicazione dell'appalto non solo i criteri di aggiudicazione dell'appalto ma anche la ponderazione che a ciascuno di questi criteri la stazione appartante conferisce e i relativi criteri motivazionali questa è una questione con cui con cui torneremo dopo ma il legislatore tenendo conto anche del fatto della possibilità concreta che in sede di gara il l'offerente ai fini dell'aggiudicazione offra tutto ciò che sia possibile offrire stabilisce anche che nella procedura di gara deve essere presidiata non solo nella fase dell'affidamento ma anche nella successiva fase soprattutto forse nella successiva fase di esecuzione attraverso delle procedure che garantiscono il cosiddetto controllo di qualità vale a dire che al momento dell'esecuzione del contratto il contraente che si è giudicato la gara offrendo il meglio poi dia effettivamente questo meglio che ha offerto scusatemi forse la terminologia non proprio adeguata quali sono i criteri che possono essere scelti per strutturare l'offerta economicamente più vantaggiosa questa diciamo che i criteri che possono essere scelti possono essere il codice ne prevede tanti e il dato da cui bisogna partire è che la discrezionalità della pubblica della stazione appattanta nel determinare quali sono i criteri attraverso i quali l'offerta verrà valutata costituiscono frutto sono attribuiti alla discrezionalità tecnica più ampia della stessa stazione appaltante perché i criteri vanno scelti in funzione del bisogno che io intendo soddisfare e di come io voglio sollecitare il mercato attraverso la presentazione di offerte che dal punto di vista qualitativo incrementino le prescrizioni tecniche minime che io ho inserito nel capitolato speciale d'appalto perché l'offerta economicamente più vantaggiosa fondamentalmente a questo serve a strutturare un livello minimo di prestazione del servizio del prodotto che io metto in gara e sul quale sollecito il mercato sollecito gli operatori a fare delle offerte in miglioramento ora come valutare i miglioramenti che le imprese che gli offerenti mi propongono in sede di gara è appunto frutto di è attribuito alla discrezionalità tecnica piena della stazione appartante però la letteratura costruisce diciamo i criteri secondo tre grandi categorie macro macrotipologie che sono legate alla qualità dell'offerta come vedete all'organizzazione del personale e i servizi post vendita e consegna la qualità dell'offerta che cosa può guardare può guardare al suo pregio tecnico quello che si chiama merito tecnico può guardare alle caratteristiche estetiche funzionali per esempio nell'affidamento degli appalti di lavori di opere pubbliche non c'è dubbio che l'aspetto estetico quindi architettonico dell'inserimento ambientale le caratteristiche funzionali ad esempio se appalto un edificio scolastico l'offerta posso premiare anzi dovrò premiare considerando quali sono le linee guida in materia di progettazione della scuola l'offerta che mi garantisce maggiore flessibilità nell'utilizzo della struttura anche considerando le grandi variazioni demografiche che nella popolazione studentesca si sono verificate nell'ultimo periodo negli ultimi 30 anni poi le caratteristiche sociali e mentali innovative di cui parlerà l'avvocato Barbera la commercializzazione nelle relative condizioni altro criterio da poter utilizzare e che di particolare interesse soprattutto per quanto riguarda i servizi e le forniture più che per i lavori è quello dei servizi che seguono la fase di consegna del prodotto e di installazione del prodotto e che sono le garanzie che vengono offerte per gli interventi di carattere manutentivo per le riparazioni successivamente al prodotto in generale sostanzialmente quello che si chiama assistenza tecnica e assistenza manutentiva post consegna e che riguarda la fase esecutiva del contratto molto spinge qui faccio solamente un'indicazione il nuovo codice nell'articolo 97 spinge molto sui cosiddetti criteri ambientali con la possibilità quindi di valutare l'offerta attribuendo un punteggio specifico ad esempio al possesso di un marco di qualità ecologica dell'Unione Europea Ecolabel OE quando però l'offerta presenti questi prodotti misura pari o superi o superiore al 30% del valore delle forniture e prestazioni oggetto al contratto ad esempio tipico è richiedere attribuire un punteggio alle offerte che presentino queste caratteristiche negli appalti per i servizi di pulizia dove si impiegano i prodotti detergenti molti dei quali ormai sono assistiti da prodotti Ecolabel importante è per esempio richiedere questo requisito non questo requisito premiare questa caratteristica dell'offerta nei servizi di ristorazione molti prodotti per esempio che noi chiamiamo a chilometro zero o a filiera corta sono assistiti dalla certificazione europea dell'Ecolabel poi anche il costo di utilizzazione e manutenzione ha avuto il riguardo ovviamente questa parte qui sarà ripeto approfondita più in dettaglio dall'avvocato Barbera il discorso comunque è che questi criteri vanno individuati progettati pensati già nel momento in cui si costruisce il capitolato la cosiddetta griglia di valutazione non può essere pensata a valle della costruzione del capitolato ma la devo pensare in maniera coeva perché nel capitolato io esprimo individuo i bisogni che la stazione appattante intende soddisfare e in relazione a questi bisogni io devo necessariamente graduare i criteri con cui valuterò l'offerta che questi bisogni andranno a soddisfare quindi nel momento in cui io devo progettare un edificio che può essere facciamo riferimento nuovamente alla scuola devo comprendere quali sono esattamente oltre al bisogno che è quello ovviamente di avere un edificio scolastico che è a norma applicando le norme tecniche in materia di costruzione di edifici scolastici quali altri interessi quali altri bisogni aggiuntivi intendo soddisfare che possono essere legati ad esempio all'inserimento estetico nel contesto urbano in cui inserisco l'opera e quindi far prevalere nella valutazione attribuendo un punteggio maggiorato agli aspetti dell'inserimento architettonico agli aspetti dell'inserimento ambientale come dicevo prima agli aspetti legati all'utilizzo dell'opera e quindi alla maggiore o minore flessibilità nel progetto di distribuzione degli spazi interni tutto questo io devo pensarlo nel momento in cui strutturo il progetto nel momento in cui strutturo il capitolato perché rinviarlo a dopo significa magari exposto creare dei criteri che non sono propriamente pertinenti l'oggetto dell'appalto un altro dei criteri possibili e qui introduciamo un punto su cui il codice apporta sicuramente delle novità sono l'organizzazione le qualifiche e l'esperienza del personale che oggi nella nuova formulazione dell'articolo 97 possono costituire un criterio di valutazione qui introduco un tema che è un tema su cui veramente il codice ha introdotto una profonda innovazione che è quello della distinzione che prima sembrava non come dire della confusione della commistione tema dibattuto in sede comunitaria in sede di giurisprudenza nazionale sui requisiti di qualificazione e sui criteri di valutazione dell'offerta ad esempio l'organizzazione le qualifiche e l'esperienza del personale prima dell'entrata in vigore del nuovo codice erano considerati come sussumibili solo come requisiti di qualificazione perché facevano parte dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa per intenderci la dimensione dell'organico nei requisiti di qualificazione spesso chiedevamo per esempio l'organico medioannuo del triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando riportare questo requisito tra quelli di valutazione dell'offerta era considerato dalla comunità europea ed era considerato dalla nostra giudisprudenza nazionale ma da tutta la dottrina un'eresia dal punto di vista della legittimità dell'affidamento perché guardava a requisiti che avevano carattere soggettivo che tenevano vale a dire alla dimensione organizzativa dell'operatore offerente non alla qualità dell'offerta questa rigida separazione nel nuovo codice comincia a vacillare per questo primo profilo ma poi per un altro molto più importante che dimostra come il criterio sia stato ora abbandonato nei termini di rigidità in cui lo conosciamo quindi sostanzialmente l'organizzazione le qualifiche e l'esperienza del personale possono costituire un criterio di valutazione vi faccio un caso molto diffuso che è quello dei servizi di ristorazione scolastica tutti i comuni si trovano ad affare affidamenti di questa tipologia tranne quelli che ovviamente hanno invece come mai imparaccate per il comune capoluogo il servizio all'interno ma chi esternalizza il servizio deve costruire dei criteri di valutazione questi criteri di valutazione sono legati normalmente al ciclo di produzione del 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 piatto ecco per così dire ma possono sulla base di questo nuovo criterio invece sulla base di questo nuovo principio dell'articolo 97 prendere ad oggetto anche l'organizzazione del fornitore e quindi se vedete tutti i bandi che sono stati che vengono pubblicati da quando è entrato il miglioro del nuovo codice riservano una parte del punteggio all'organizzazione dell'imprenditore quindi alla presenza all'interno della struttura di qualifiche funzionali scusatemi di qualifiche e di mansioni come quello del cuoco del dietista del tecnologo alimentare danno conto del fatto che un'organizzazione che presenta figure professionali idonee possono incidere sulla qualità dell'offerta allora questa è la condizione per cui io trasporto un elemento che di solito attiene all'organizzazione dell'impresa e quindi è un requisito soggettivo che prima non potevamo utilizzare come criterio di valutazione dell'offerta posso ora con il nuovo codice trasferirlo a criterio di valutazione dell'offerta stessa l'abbandono del criterio rigido di separazione lo avvertiamo ancora di più nel fatto che possono essere utilizzate come criteri di valutazione dell'offerta anche le cosiddette certificazioni vale a dire le certificazioni e le attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori quali l'OSHS 18.001 le caratteristiche sociali e mentali ma in generale le certificazioni che sono attengono alla soggettività dell'offerente ad esempio la certificazione ISO 9001 la certificazione in materia mentale della 14.001 vigente il codice del 163 era impossibile perché vietato dal principio della netta separazione tra requisiti di qualificazione e criteri di valutazione dell'offerta inserire il possesso di queste certificazioni tra i criteri di valutazione dell'offerta a cui attribuire un punteggio ora questa condizione invece ora questa scelta è possibile e anzi è opportuna soprattutto per quanto riguarda la sconsidierai per la ISO 9000 perché è una certificazione come dire che non qualifica che non è indicativa della qualità dell'offerta perché ormai è talmente tanto diffusa da non distinguere più gli operatori ma per esempio se vogliamo manifestare particolare sensibilità che il codice manifesta verso un valore fondamentale che è quello della tutela della sicurezza dell'integrità fisica del lavoratore per esempio il fatto di attribuire un punteggio anche significativo al possesso della certificazione OSHAS che è una certificazione non particolarmente diffusa e che guarda e che hanno e che in possesso di aziende che hanno una filiera del lavoro che tutela l'integrità fisica e il benessere del lavoratore io consiglierai di inserirla così come per gli appatti ovviamente che la richiedono la certificazione ISO 14001 che è una certificazione ambientale rinforzata altri criteri che costituiscono una novità assoluta introdotta dal codice e che possono essere utili ecco a proposito delle certificazioni però faccio un passo indietro perché forse ne ho l'enfasi mi ha portato a sopravvalutarne come dire l'impatto che possono avere sul l'ANAC dà un'indicazione in questo senso nelle linee guida e dice dobbiamo considerare superato il criterio di distinzione di separazione a cui ci riferivamo prima però non possiamo non tenere conto del fatto che comunque le certificazioni di qualità sono attengono alla sfera soggettiva dell'operatore economico che partecipa alla gara quindi dobbiamo farne un uso parsimonioso per quanto riguarda la previsione ma quando li prevediamo dare un punteggio comunque marginale e residuale quindi sostanzialmente sui 70 punti che devono essere riservati all'offerta alla qualità dell'offerta dice l'ANAC consiglia di non superare i 10 punti oltretutto prevedere le certificazioni ci dà un aiuto perché voi sapete che i sistemi per determinare l'attribuzione del punteggio sono essenzialmente due uno è il criterio discrezionale che rimetta la valutazione del commissario di gara l'attribuzione del coefficiente che poi viene trasformato in punteggio e c'è quello cosiddetto del sistema tabellare on off quindi hai il possesso dell'elemento ti do il punteggio non hai il possesso dell'elemento non te lo do le certificazioni quindi l'attribuzione in questo modo oggettiva e per certi versi stabilizza l'appalto quindi maggiori sono gli elementi a cui attribuiamo il punteggio del non off minore la discrezionalità minore la possibilità che l'esercizio della discrezionalità non adeguatamente motivato determini l'illegittimità della giudicazione questo è un consiglio tra tecnici ecco altri criteri che hanno carattere di innovatività perché non presenti nel 163 sono quelli che andiamo a leggere io posso prevedere l'attribuzione di un punteggio al cosiddetto ma al maggior rating di legalità è la prima volta che in un testo come dire che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici si parla di rating di legalità perché il rating di legalità non è fondato su una normativa certa avente forza di legge ma si fonda su una delibera dell'autorità garante della concorrenza del mercato mi pare del 2013 sostanzialmente come funziona il rating di legalità è una sorta di patentino a stellette da 1 a 5 che gradua riservato e anzio di tutto alle società che hanno un fatturato anno superiore a 2 milioni di euro e che documentano il possesso all'interno l'adozione all'interno del ciclo produttivo di particolari standard di qualità a tutela della salute dei lavoratori a tutela della qualità del prodotto e via dicendo la Gcom rilascia questa sorta di certificazione che ripeto è graduata con delle stellette da 1 a 5 e che potrebbe può essere a cui possesso può essere attribuito un punteggio ovviamente il fatto che l'acquisizione del rating di legalità non sia normato da un atto avente forza di legge ha indotto l'ANAC correttamente a dire attenzione perché la previsione del rating di legalità potrebbe è previsto in Italia non è previsto nel resto d'Europa portare a delle sperequazioni nell'ipotesi in cui il bando la gara sia aperta alla concorrenza europea ma anche all'interno del territorio nazionale perché ci sono le imprese di recente costituzione ci sono delle imprese che non possono che non hanno i requisiti finanziari richiesti per l'accesso al rating di legalità quindi puoi anche prevederlo però parallelamente prevedi la possibilità che si è dato un punteggio ad imprese che pur non avendo il rating di legalità tuttavia hanno adottato in termini di organizzazione aziendale il percorso produttivo che valutato potrebbe dar corso al rilascio del rating di legalità quindi sostanzialmente per farvi un esempio di altro genere è come quando si fa riferimento alla al problema di un prodotto alla marca di un prodotto e poi si mette o equivalente quindi io posso andare a dire do 5 punti al rating a chi all'impresa che possiede all'operatore economico che ha il rating di legalità però a chi ha un'organizzazione aziendale che ha caratteristiche equivalenti a quelle previste dal rating di legalità pur non avendo il rating di legalità formalmente concesso tuttavia do ugualmente il punteggio poi ci sono dei criteri però qui è facile scriverlo e poi è difficile metterlo in atto senza violare il principio di parità di trattamento e di non discriminazione per cui per agevolare la partecipazione di micro piccole e medie imprese qui veramente ho pensato ripensato ma è veramente difficile strutturale dei criteri che non siano a monte per esempio ma in questo caso soccorre direttamente il codice il frazzonamento in lotti il codice per esempio dice una cosa che se spostata prima dell'entrata in vigore al 2010 sarebbe stata oggetto addirittura di interesse da parte di un giudice diverso da quello amministrativo il frazzonamento dell'appalto in lotti per abbassare il livello di qualificazione ed ampliare la platea prima veniva considerato frazzonamento artificioso ora il codice anche su questo muta profondamente direzione e lo fa tra l'altro per una questione che tutti avevamo sotto gli occhi e cioè che il mercato a causa della crisi economica aveva cambiato radicalmente molto e che quindi aumentare l'importo degli appalti significa sostanzialmente restringere enormemente la concorrenza e su questo tema vi posso dire vi ripeto siamo tutti operatori quindi conosciamo la vicenda avete visto che tipo di interventi sono stati fatti dalla magistratura amministrativa perché il Consiglio di Stato continua a emettere sentenze che annullano i bandi di Consip con i maxilotti tra cui per esempio tra tutti quello del cosiddetto global service immobiliare che era andato a Romeo cioè in Italia si erano fatti quattro lotti ciascuno dei quali aveva come base d'asta 2 miliardi di euro che poteva consentire la partecipazione anche al raggruppamento temporaneo solo a quattro operatori economici a livello nazionale il Consiglio di Stato proprio partendo dal presupposto che questa scelta violava un principio che il codice ha recepito che è quello di garantire la massima apertura al mercato e soprattutto l'accesso al mercato delle micro piccole e medie imprese delle PMI per sintetizzare ha annullato il ma oltretutto il mancato frazionamento stranamente è all'oggetto anche della magistratura penale in questo caso per effetti per una questione che è diametralmente opposta a quella del frazionamento artificioso di cui si parlava un tempo le imprese di nuova costituzione qui ovviamente l'unico modo per permeare le imprese di nuova costituzione è quello di valorizzare i cosiddetti progetti di start up cioè i progetti innovativi quindi valorizzare le imprese di nuova costituzione significa sostanzialmente come dire lo si può applicare nei contratti negli affidamenti per i servizi di innovazione tecnologica per esempio per i prodotti informatici per i servizi di digitalizzazione perché in questo campo operano tante start up formati da giovani ingegneri da giovani professionisti per cui io non solo potrei valorizzare appunto l'apporto innovativo dell'offerta in termini di start up ma anche il punto precedente la presenza all'interno delle qualifi all'interno della struttura organizzativa di giovani professionisti e poi l'altro punto è quello di cui avevamo parlato e che approfondiremo dopo e non lo so dobbiamo fare un'altra puntata io non saprei come come sintetizzare sì il materiale pubblichiamo non c'è dubbio dunque veramente non saprei come cioè a questo punto forse conviene fare una cosa dando per scontato che la materia sia conosciuta facciamo una cosa sviluppo facciamo per un quarto d'ora no non non mi ferirei a commentare magari qualche qualche novità introdotta dal codice soprattutto dal correttivo dunque l'articolo 97 che elenca i criteri di aggiudicazione stabiliva praticamente stabilisce che il punteggio comunque deve essere pari a 100 e che la distribuzione prima che intervenisse il correttivo tra i punti da assegnare alla qualità dell'offerta e quelli da assegnare alla componente economica del prezzo visto come corrispettivo visto come costo ciclo di vita efficace e ciclo di vita fosse scelto liberamente dalla stazione appaltante in funzione di quelli che erano gli obiettivi che perseguiva è corretto assolutamente corretto l'ANAC ha sollecitato più volte una modifica di questa norma ed è riuscita nell'intento col correttivo la conseguenza è che oggi alla componente prezzo non è possibile assegnare più di 30 punti sui 100 complessivi previsti è una norma stupida perché procura al di là di quello che ne pensa ora la GICOM che andiamo a vedere perché procura un irrigidimento che in taluni casi quando soprattutto quando come dicevo prima la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è obbligatoria non si sa come costruire un punteggio che arrivi a 70 punti in termini di qualità dell'offerta soprattutto quando le prestazioni hanno caratteristiche standardizzate come dire sono normalmente conosciute e praticate dal mercato e non è possibile spingere l'operatore a formulare miglioramenti significativi su questa questione ovviamente per non farci mancare anche un corto circuito di tipo istituzionale è intervenuta anche l'autorità garante per la concorrenza sul mercato probabilmente è una deliberazione che conoscete tutti ma è interessante leggerla perché dice l'autorità garante della concorrenza del mercato ritiene che la norma dell'articolo 95 così come è modificata ovviamente dal correttivo che era mirata secondo quanto diceva l'ANAC a garantire qualità concorrenza eccetera eccetera che cosa dice la Gcom dice che realizza l'effetto completamente immerso infatti si pone in contrasto con i principi di concorrenza non discriminazione e parità di trattamento in quanto l'aggiudicazione dell'appatto dovrebbe avvenire secondo criteri che garantiscono un raffronto obiettivo e ponderato dell'offerta al fine di determinare in condizioni di effettiva concorrenza anche di prezzo quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa l'autorità invita dunque l'autorità in indirizzo ANAC Parlamento Governo eccetera eccetera a valutare l'opportunità di una modifica della normativa in esame eventualmente eliminando l'inciso che aveva voluto ANAC e comunque rivedendo in aumento la soglia del 30% al fine di consentire una maggiore valorizzazione della componente economica dell'offerta poi nel testo della deliberazione questa diversa modulazione arriva a dire 50-50 ma il problema non è 50-50 il problema è ripristinare e pare che in questo senso si stia lavorando una effettiva discrezionalità della stazione appaltante nel congegnare l'equilibrio tra la componente economica e la componente qualitativa in coerenza con i bisogni che la stessa stazione appaltante intende perseguire d'altronde e questo è esperimento siccome sono proprietario di un garificio attualmente facciamo gare in continuazione ho potuto sperimentare che nel momento in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio dei 70 punti attribuiti alla componente qualitativa vengono sommati ai 30 punti e questi 30 punti del punteggio economico vengono determinati non con il sistema dell'interpolazione lineare che dà come vi ricordo all'offerta pari alla base d'asta zero all'offerta che ha in maggior ribasso 30 e alle altre proporzionalmente ma vengono assegnate con formule diverse quelle cosiddette convesse o bilineari vale a dire in cui il rapporto tra i ribassi il rapporto dei punteggi si avvicina molto e quindi magari in un range di 30 punti l'offerta col minor ribasso ne prende 20 e l'offerta col maggior ribasso ne prende 30 vi posso garantire che non c'è più equilibrio tra le due componenti quindi l'offerta la gara si gioca tutta sulla componente qualitativa la componente del prezzo diventa ai fini dell'aggiudicazione definitiva irrilevante e questo non era negli obiettivi di chi ha stabilito il nuovo codice perché il nuovo codice il legislatore del nuovo codice quando ha ritenuto di voler rendere irrilevante la componente prezzo ha previsto specificamente una modalità di aggiudicazione che non era in precedenza conosciuta che è quella di aggiudicare solo sulla base degli elementi qualitativi a prezzo fisso quindi io stabilisco c'è però questa possibilità e c'è perché è normativamente prevista lo si può fare ovviamente solo in casi che sono previsti dalle norme legislativo regolamentari anche europee e in tutti gli altri casi in cui si opera in un mercato in cui i prezzi sono soggetti a regime tariffario o vigilato o controllato quindi in questo caso io posso dire ad esempio abbiamo sperimentato o anche in altri casi che dovrebbero essere però per cui si richiede specifica motivazione posso dire un caso che abbiamo gestito direttamente in provincia che è quello del contratto l'affidamento dei servizi di ripristino delle dei dei banufatti stradali post-incidente è un meccanismo che aveva sperimentato una società qualche tempo fa e che si era fatta anche approvare come convenzione tipo da ANAC sì e che cosa prevede? prevede sostanzialmente che il corrispettivo per il servizio di ripristino a post-incidente venga pagato non direttamente dalla sezione appaltante ma valendosi delle assicurazioni quindi io automobilista distruggo un guardrail la provincia interviene per il ripristino la società che esegue il ripristino viene pagata dall'assicurazione del di chi ha causato il danno sì però in questo caso siccome io non erogo un prezzo non lo erogo io direttamente e le transazioni che il mio contraente fa col terzo assicuratore io sono indifferente sostanzialmente che cosa faccio? la gara la indico e la svolgo solo sulle componenti qualitative sugli elementi qualitativi non è che voglio essere avere la prima genitura la citavo come esempio perché noi due l'abbiamo fatta e gli altri magari no ci possono ci possono anche ci si può anche pensare vediamo se c'è qualche altra sentenza dopodiché chiudo veramente però mi dispiace perché avrei voluto parlare di sì sì Matteo visto che ha voluto citare questo caso vediamo lei come ha fatto bisogna dare un valore a questo punto è vero che c'è solo il fattore qualitativo che non prezzo però ai fini della determinazione del valore del contratto noi noi abbiamo assunto a valore del contratto perché ovviamente bisogna stabilire anche il tipo di procedura da fare e gli adempimenti di pubblicazione noi abbiamo assunto il costo storico dei risarcimenti che erano stati fatti nel triennio precedente perché comunque è una casista è una un'indagine che può essere tranquillamente fatta io so quali incidenti ha subito il nostro il nostro demanio stradale e sommo tutte le transazioni a titolo risarcitorio che sono verificate nel triennio precedente determinano il valore per esempio noi avevamo determinato come valore se non ricordo male 995 mila euro 995 mila euro tanto che l'appatto era stato di rilievo comunitario perché poi ovviamente la determinazione del valore dell'appatto non incide solo sul tipo di procedura e sulle pubblicazioni da fare ma sulla qualificazione perché io devo richiedere che nel triennio precedente abbiano svolto almeno un servizio analogo che significa analogo nelle caratteristiche tecniche ma significa anche analogo per importo però è un accertamento che è semplice fare perché ripeto dell'infortunistica che subiscono le nostre infrastrutture stradali gli uffici tecnici hanno adeguata documentazione quindi poi 5 mila euro in più 5 mila euro in meno lo sposta certo se lo faccio per stare al di sotto dei 227 mila euro no ma se anziché 900 mila euro e 950 mila euro non non sposta granché no ma non ma sei sicuro? dunque ripeto mi fermo a questo punto ho avuto una donazione una donazione del tempo un po' come un po' come eh non so se loro sono d'accordo però io non non quando parleremo della giudicazione qual è l'ospito al prossimo incontro intanto poi il Presidente Altara mi ha detto che lui farà un intervento di un quarto d'ora va bene quindi l'altro elemento di novità che il codice apporta è quello ripeto legato alla qualificazione dell'elemento prezzo secondo due diverse accezioni uno che è di tipo come dire tipico da Sinalagma contrattuale uso questo termine importante per dire come semplice corrispettivo dell'acquisto del bene quindi io sostanzialmente indico nel bando che il prezzo lo determino sulla base dell'offerta di acquisto di vendita per così dire posso fare un'operazione un po' più complessa che il codice me la consente perché l'elemento prezzo può essere valutato anche secondo un'accezione che è tipica della letteratura economica vale a dire come costo quando parliamo di costo parliamo ad un prezzo che si compone come prezzo finale dalla sommatoria di tutti i costi generati dal ciclo di vita del prodotto e che sono lo vedete qui nella lettera A quelli interni al ciclo di vita del prodotto cioè i costi relativi all'acquisizione i costi connessi all'utilizzo ma io aggiungerei qui il codice non lo prevede ma ci sono anche i costi di progettazione che fanno necessariamente parte del ciclo di vita del prodotto poi sono i costi all'utilizzo quali il consumo di energia e altre risorse ritorno al al tipico caso delle forniture delle apparecchiature quali i computer il computer è un tipico acquisto che dovrebbe essere valutato secondo il criterio non del semplice prezzo di acquisto ma del costo del ciclo di vita perché il computer in generale le attrezzature elettroniche diciamo producono dei costi connessi all'utilizzo e quindi per esempio il fatto di essere secondo i criteri di qualificazione europea in classe A++ o in classe C dovrebbe essere adeguatamente valutato perché comporta un costo di utilizzo che è enormemente differente i costi di manutenzione i costi relativi alla fine vita come i costi di raccolta e di riciclaggio sarebbe recupero smaltimento più propriamente ho utilizzato il termine del codice ma questo è evidentemente i prodotti che hanno un maggiore tasso come dire tasso di inquinamento sull'ambiente hanno costi di smaltimento hanno costi di smaltimento maggiori ma oltre a questi costi che sono interni al ciclo di vita dovrebbero essere valutati anche i costi che sono esterni al ciclo di vita del prodotto ma che comunque sono relativi sempre all'utilizzo del prodotto e che sono per esempio quelli prodotti dalle emissioni di gas ad effetto serra e dalle sostanze inquinanti che sono generati dall'utilizzo del prodotto ma anche dal suo ciclo di produzione questo qua era il modo il sistema con cui si valutano le offerte come sapete il codice ha introdotto anche un nuovo sistema che ancora non è in vigore ma che lo diventerà tra poco per nominare e istituire le commissioni giudicatrici che cosa che non verrà fatto più dalla stessa sezione appaltante almeno per gli appalti di livello comunitario ma verrà fatto attingendo ad un elenco gestito da ANAC nell'ipotesi in cui per gli appalti sotto soglia i commissari esterni devono comunque secondo le linee guida di ANAC devono essere estratti dall'elenco di ANAC o meglio il presidente deve essere estratto dall'elenco di ANAC i componenti possono essere interni a condizione però che siano scritti nell'elenco di ANAC perché questa è una novità introdotta dalle linee guida che per la verità il codice non prevedeva e questo porterà ad un aggravamento non di poco conto perché alle gare presidiamo molti ma dovremmo andare a dimostrare di avere gli stessi requisiti sostanzialmente che hanno i componenti esterni che si scrivono all'albo per continuare a fare un lavoro che facciamo magari da 25 anni come nel caso mio ovviamente nel caso in cui la giudicazione avviene con il criterio del minor prezzo non essendo necessario operare valutazioni di nessun genere non c'è bisogno di nominare la commissione ma si può nominare un seggio di gara oppure solamente il presidente e questo ognuno sceglie sulla base di quelle che sono le scelte ordinamentali dell'ente la determinazione dei punteggi di attribuire come abbiamo detto è rimessa alla discrezionalità che è una discrezionalità ora molto molto limitata e molto contenuta della sezione appaltante perché sta all'interno di quel range minimo 70 massimo 30 abbiamo visto i dubbi che ha sollevato la Gcom con riferimento alla previsione dei 30 punti la leggete sono delle considerazioni che appaiono banali ma non non lo sono del tutto quindi ovviamente il punteggio deve essere modulato ribadisco in funzione degli obiettivi che l'amministrazione si propone altra questione fondamentale che ha portato all'annullamento di non poche aggiudicazioni su un tema che era dibattuto fin dalla vigenza del codice del 2006 che se vi ricordate nel 2012 era stato modificato proprio allo scopo di inserire la previsione dei cosiddetti subcriteri e la previsione dei criteri motivazionali questo perché la previsione dei criteri motivazionali applica è una logica conseguenza del criterio di trasparenza perché non è altro che obbligo di motivazione vale a dire il bando deve prevedere quale sarà l'iter logico tecnico giuridico che ogni commissario seguirà per valorizzare un elemento piuttosto che un altro e per attribuire il punteggio questo è un principio irrinunciabile di trasparenza poi ciascuno può organizzare il criterio motivazionale come crede può dire che l'offerta che presenta i seguenti requisiti e l'elenca avrà il punteggio massimo oppure avrà la valutazione di ottimo discreto buono come si usava la scuola elementare come si usa ancora la scuola elementare può utilizzare tutti i criteri che vuole perché siano ovviamente logici perché siano adeguati perché siano proporzionati all'oggetto dell'appalto perché rispondono al principio di proporzionalità e adeguatezza sostanzialmente tra l'altro l'indicazione dei criteri motivazionali vi posso garantire non giova solo all'operatore esterno che si approccia alla stazione appaltante con minore pregiudizio perché dice tanto non presento offerta tanto puoi giudicare a chi vogliono ecco questo pregiudizio viene spassato via immediatamente nel momento in cui i criteri motivazionali sono quanto più possibili peraltro oggettivi per questo vi dicevo prima laddove è possibile stabilire il metodo dell'on-off tabellare facciamolo senza senza problemi cioè negli appatti per esempio per raccolta dei rifiuti se io voglio valorizzare i criteri ambientali di cui non parlerà più l'avvocato Barbera scriverò che l'offerta che prevede l'impiego di un numero di mezzi con caratteristiche euro 6 pari a 10 avrà il punteggio massimo quelli che ne avrà e ne impiegherà 5 avrà il punteggio intermedio chi non ne ha nessuno avrà il punteggio zero quindi questo è già un criterio motivazionale maggiore l'esigenza di indicare i criteri motivazionali laddove maggiore è la discrezionalità che esercitiamo quindi non possiamo dire che 10 punti vengono attribuiti al migliore inserimento ambientale perché questo non è un criterio motivazionale definito e puntuale ma dobbiamo dire che 10 punti verranno dati al migliore inserimento ambientale in quanto l'offerta presenta le seguenti caratteristiche due uno tiene conto della contiguità rispetto ad un bosco che ne so che ha essenze di particolare pregio lo sto lì ad elencarle perché magari non lo so nemmeno però per darvi delle indicazioni su come deve essere costruito il criterio motivazionale i metodi poi che utilizziamo qui andiamo sul piano puramente matematico ma vi riassumo sono essenzialmente due il metodo del confronto a coppia e il metodo dell'attribuzione dei coefficienti discrezionali da parte dei commissari il primo vi consiglierei di utilizzarlo dove nelle gare in cui si presume vengono presentate tante offerte perché perché il metodo del confronto a coppie riduce l'obbligo della motivazione e soprattutto come dire e quindi rende più semplice arrivare alla giudicazione nell'ipotesi in cui le offerte da porre a confronto siano tante sapete come funziona il metodo del confronto a coppie sostanzialmente ogni offerta viene confrontata con tutte le altre quindi poniamo caso che siano tre offerte la A, la B e la C la A viene confrontata con la B e con la C la B con la A e con la C la C con la A e con la B ogni commissario mettendo a confronto le offerte dà un giudizio che può essere di prevalenza dell'una rispetto all'altra oppure di parità questo giudizio viene per ogni criterio di valutazione trasformato in un coefficiente e il coefficiente poi viene alla fine trasformato in un punteggio moltiplicato per il punteggio quindi viene trasformato in un punteggio però ripeto siccome qui non c'è l'obbligo di puntuale motivazione del giudizio di prevalenza o del giudizio di parità o del giudizio o degli altri giudizi che possono essere congegnati ovviamente nel bando lo sforzo che i commissari devono fare in termini di motivazione è molto alleggerito non è così invece quando il metodo prescelto è l'altro è quello dell'attribuzione di coefficienti discrezionali da parte dei commissari in questo caso ogni commissario dispone di un coefficiente compreso tra 0 ed 1 attribuisce il coefficiente legato al criterio motivazionale del precetto per esempio se nel bando è detto che il coefficiente che corrisponde al giudizio sufficiente perché l'offerta presenza determinate caratteristiche 06 verrà dato il commissario attribuirà il coefficiente 06 alla fine che cosa succede che i coefficienti attribuiti da ciascun commissario vengono mediati quindi si ha la media dei coefficienti e a questo punto volevo introdurre un problema che è diventato problema ora perché sono intervenute le linee guide di ANAC che danno una direzione e la giudisprudenza va in una direzione completamente opposta quindi qui serve anche a scegliere qual è il sistema il problema è quello della cosiddetta riparametrazione cos'è la riparametrazione è possibile che in ciascuno dei criteri l'offerta non consegua il massimo punteggio che il bando assegna quindi se il criterio dell'inserimento ambientale è 30 punti è possibile che le offerte non abbiano avuto un coefficiente nessuna dell'offerta abbia avuto un coefficiente che consumi che consente l'attribuzione dell'intero 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 punteggio in questo caso cosa succede il rischio è che nell'ipotesi in cui in tutti i criteri nessuno consegue il punteggio massimo venga squilibrato il rapporto che nel momento in cui io ho approvato il bando volevo esistesse tra componente qualitativa a 70 punti e componente economica a 30 punti perché ovviamente cosa succede il rischio è che non assegno i 70 punti dell'offerta tecnica e allora soccorre a questa difficoltà la cosiddetta riparametrazione che può essere doppia una prima riparametrazione che riguarda le medie dei coefficienti che abbiamo detto per cui cosa succede se io ho tre offerte una delle quali ha avuto il coefficiente 0,9 la media dei coefficienti 0,7 e 0,8 0,9 0,8 0,7 cosa faccio riparametro ad 1 la media più alta quindi 0,9 diventa 1 conseguo il massimo punteggio e gli altri vengono riparametrati in termini proporzionali a questo posso aggiungere e bisogna normalmente aggiungere se si vogliono dare i 70 punti complessivi la cosiddetta riparametrazione finale cioè quando io ho attribuito i punteggi in ogni criterio o subcriterio posso avere un punteggio finale che non consumi tutti i 70 punti ma che arrivi per esempio a 65 60 55 in questo caso i 65 punti li trasformo automaticamente in 70 e gli altri li aumento in termini parametrici ora il dramma che si apre è che poiché nell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione dell'anomalia dell'offerta deve essere fatta va fatta per tutte le offerte che presentino che abbiano conseguito un punteggio sull'elemento qualitativo e sull'elemento economico superiore ai 4 quinti del punteggio massimo ora i 4 quinti li considero prima della riparametrazione o dopo la riparametrazione perché ovviamente se li considero dopo la riparametrazione è scontato che tutte le offerte sono anomale o comunque un'offerta quella giudicataria sarà presumibilmente anomala e vi posso dire che statisticamente in tutte le gare è successo succede ANAC dice nelle linee guida devi fare la valutazione dell'anomalia dell'offerta dopo la riparametrazione la giurisprudenza non tutta ma all'80% le sentenze le avevo raccolte e quindi possiamo andarle a leggere va in senso diametrazione va in senso opposto scusate scusate devo trovare no ma forse le ho inserito qua i riferimenti le ho inseriti qua direttamente ah ecco qua è qui vedete l'ARAC nelle linee guida dice nelle linee guida numero 2 del 2016 ai fini della verifica dell'anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni giurisprudenza ne ho citato alcune ma ce ne sono tantissime nelle gare pubbliche il punteggio da prendere in considerazione ai fini della verifica dell'anomalia è quello effettivo conseguito da ciascuna offerta e non quello più alto risultante dell'eventuale attività di riparametrazione effettuata dall'alzazione appaltante che abbia previsto di sancitare tale facoltà la riparametrazione infatti ha il solo scopo di preservare l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta e quindi non incide sulla veduzione dell'anomalia aggiungerei qualcosa di più la riparametrazione è una finzione giuridica non è il valore reale dell'offerta perché lo faccio per quella finalità che è quella di dire io devo attribuire il punteggio massimo in entrambi gli elementi quindi ricorro a questa finzione che si fonda su un criterio puramente matematico di attribuzione del punteggio più alto del punteggio massimo a quella che ha avuto il punteggio parziale più elevato però appunto perché finzione non riguarda la vera qualità dell'offerta che è quella del punteggio iniziale a cui deve guardare l'anomalia il consiglio di stato e tutte le sentenze che ho citato non fanno altro che prendere atto di questa considerazione che per certi versi mi sembra anche banale forse solo Alec non ci arrivava poi ci sarebbero tutta una serie di questioni ma credo che questo punto questa per esempio è un'altra questione che ha dato luogo perché per gli operatori è di difficilissima applicazione cioè era già stato inserito nel vecchio codice in il il limine vite o quasi alla fine ma è stato riprodotto nel nuovo che cosa si ipotizza si ipotizza che in serie di gara io apro le offerte ovviamente tanto che il criterio che abbia scelto di applicare il criterio dell'esclusione automatica dell'offerta e tanto che abbia scelto di determinare la soglia dell'anomalia poi procedendo alla verifica dell'anomalia in contraddittorio devo determinare la soglia dell'anomalia ovviamente la soglia dell'anomalia mi determina un aggiudicatario la il codice dice sostanzialmente che i provvedimenti tanto giurisdizionali aggiungo quanto i provvedimenti che la sezione appartante può adottare esercitando l'autotutela nel momento in cui comportano esclusioni riammissioni o incidono comunque sulla gradatoria che io che la gara mi ha consegnato e che io ho approvato non possono non generano modifica né nella media né nell'individuazione della soglia dell'anomalia io vi giuro che nonostante non sia proprio l'ultimo arrivato mi sono cervellato a capire come si possa applicare questa cioè praticamente cosa succede nel momento in cui il tar annulla la giudicazione perché io per esempio ho escluso illegittimamente un'impresa nella quale non ho manco valutato il ribasso perché lo è scusa prima perché per esempio c'era un illecito professionale che ho considerato rilevante e che poi invece il tar nella sua estrema discrezionalità considera non rilevante ce ne sono repertori di giurisprudenza pieni allora il tar gli dice annullo la giudicazione e ti ordino di riammettere l'offerta perfetto però il tar non è che mi può dire non devi applicare il comma 15 dell'articolo 97 quindi io la devo riammettere e la riammetto senza farle conseguire alcun risultato perché o apro il ribasso o apro l'offerta e nel caso in cui non vi sia stata non vi sia la giudicazione con l'esclusione automatica perché in quel caso dovrei ritenere assolutamente immodificabile la giudicazione è giusto e quindi alla sentenza del tar conseguono solo effetti di tipo risarcitorio ma non consegue il fatto che io debba annullare la giudicazione riformulare l'offerta riformulare la regalatoria perché questo me lo impedisce oppure questa norma può avere applicazione solo nell'ipotesi in cui io non abbia fatto non abbia applicato l'esclusione automatica dell'offerta in questo caso la graduatoria per così dire è aperta e qualora l'esclusa abbia il miglior ribasso io aggiudico perché è il miglior ribasso perché non modifico la media ma mi limito a prendere atto del fatto che l'offerta contenuta che quella offerta è la migliore offerta ci sono anche delle sentenze che comunque ripeto non si interessano di quello che succede dopo perché quello che succede dopo è responsabilità della stazione appartante qui per esempio il CGA dice che la norma si applica ma si applica non prima che la giudicazione diventi definitiva perché non 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 perché dice sostanzialmente che prima che la giudicazione diventi definitiva la giudicazione provvisoria come sapete è un provvedimento puramente un atto puramente interno revocabile ad nutum senza particolare motivazione io non arrivo alla giudicazione quindi se io posso modificare prima della giudicazione definitiva tutto quello che voglio il divieto il di modificabilità della media della soglia dell'anomalia vale solo dopo la giudicazione definitiva ecco questo qua è il cosetto principio per esempio il Tar Piemonte dice una sentenza recentissima il cosiddetto principio dell'imbaranza della soglia dell'anomalia dell'offerta secondo cui ogni variazione della pratica dei concorrenti che intervenga anche in conseguenza di una pronuncia giuridizionale quindi l'anche ripeto significa anche per effetto di provvedimenti di autotutela regolarizzazione esclusione dell'offerta non rileva i fini del calcolo di medie della procedura né per l'individuazione della soglia dell'anomalia si interpreta nel senso che esso osta a variazione della soglia dell'anomalia con indiretti effetti sulla giudicazione indotte da modifica della pratica dei concorrenti in esito a contenzioso ovvero interventi in autotutela dell'amministrazione qualora gli stessi comportino un regresso a precedenti fasi procedimentali ribadisco l'applicazione del principio nei termini in cui le espone il TAR Piemonte e che sono gli stessi del Consiglio di Stato non ha difficoltà applicative nell'ipotesi in cui io abbia aggiudicato senza l'esclusione automatica dell'offerta ma con il procedimento di verifica dell'anomalia in contraddittorio perché lì la graduatoria è per così dire aperta quindi io lì non modifico la soglia dell'anomalia non modifico la media ma siccome dalla soglia dell'anomalia o dalla media non è conseguito direttamente e immediatamente l'aggiudicazione aggiungere un'altra offerta mi costa nulla la questione è completamente diversa nell'ipotesi in cui io abbia adottato il criterio dell'esclusione automatica dell'offerta perché lì non posso modificare la soglia dell'anomalia non posso modificare la media quindi significa che non posso modificare l'aggiudicazione e intanto così è perfetto perché il divieto che pone questa norma è di retrocedere a delle fasi procedimentali che sono chiuse e la cui riapertura secondo chi ha scritto questa norma è rischiosa perché riapre scenari che io non debbo riaprire perché altrimenti vado a condizionare l'aggiudicazione qui c'è il pregiudizio nei nostri confronti e però Antonietta dobbiamo ricordarci una cosa che noi viviamo in un ordinamento che dice che i provvedimenti giurisdizionali devono far conseguire il bene della vita non succedanei e il risarcimento del danno è un puro succedaneo quindi questa norma dovrebbe essere rivista anche in chiave comunitaria però tanto è io ripeto vi ho posto la questione perché potrebbe concretamente verificarsi e vi posso dire che non solo queste due sentenze ma ce ne sono negli ultimi sei mesi una decina che intervengono su questo tema non è capitato ai nostri affidamenti alle nostre giudicazioni ma concretamente potrebbe verificarsi soprattutto perché per esempio per i servizi delle forniture no non applichiamo il criterio ma per i lavori fino a 2 milioni di euro come sapete possono essere banditi con il criterio del minor prezzo con l'obbligo dell'escusione automatica dell'offerta nell'ipotesi in cui ci fosse un ricorso io ho bandito abbiamo svolto 15 giorni fa 20 giorni fa per il comune di Lurato Caccivo una gara la qualificazione era con lo G1 194 offerte l'abbiamo chiusa come delle entità divine mi hanno assistito nel senso che si è verificata tutte le patologie che potevano verificarsi soprattutto per quella sventurata norma sul subappalto si sono verificate perché chi non ha indicato la terna chi l'ha indicata senza mettere i DGUE sapete questa questione speriamo che qualcuno ci metta a mano e si chiuda questa triste vicenda quindi abbiamo adottato delle decisioni in sede di gara io non so a questo punto se siano giuste se non siano giuste perché il Consiglio di Stato la pensa in un modo dicendo che si può essere disposto l'integrazione con il soccorso istruttorio nell'ipotesi in cui non vi sia il DGUE ma se non indicano la terna no e allora si decide in sede di gara ci sono state una quindicina di offerte caratterizzate da patologie di questo genere io per alcuno ho fatto ricorso al soccorso istruttorio per altre il peccato era veniale quindi non ho manco fatto ricorso istruttorio l'ho dato per interpretato a favore col favore partecipazionis però abbiamo comunicato la giudicazione dieci giorni fa io non so se qualcuno farà ricorso è stata giudicata col criterio dell'escursione automatica dell'offerte quindi se il TAR dovesse accogliere il ricorso e mi dovesse dire annullo la giudicazione che cosa faccio? non posso modificare la media non posso modificare la soglia dell'anomalia dell'offerta quindi dovrei dirà il TAR ti ringrazio ma il tuo ordine non lo seguo perché siccome c'è una norma che mi dice che non posso retrocedere ad una fase procedimentale che il legislatore non vuole riaperta perché ipotizza che siccome siamo soggetti dediti al crimine fondamentalmente retrocedere alla fase di valutazione dell'offerta significa aprire degli scenari di tipo corruttivo chiusi ecco questa qua per esempio è una sentenza del Consiglio di Stato però questa documentazione ve la mando tutta la giusto perché ora non mi voglio mettere delle medagliette però come dire pone tante questioni dando delle indicazioni altra novità introdotta dal codice su cui vi prego di fare particolare attenzione perché questa a differenza della quella dell'immodificabilità dell'offerta è una novità assoluta introdotta dal correttivo quindi ce l'abbiamo in atto da pochissimo tempo riguarda il divieto di attribuire punteggio ad opere aggiuntive diciamocelo pure è uno sport che abbiamo praticato per tanto tempo quindi si parte da un progetto che magari presenta qualche falla lo si aggiudica con l'offerta economicamente più vantaggiosa e il premio e il punteggio viene dato all'offerta che ti copre quella falla come? offrendo opere aggiuntive riduce da una situazione simile da una situazione del genere a patto di una rotatoria il progetto non prevede se non a livello di infrastruttura fondamentale l'illuminazione pubblica e il bando viene pubblicato dicendo do 30 punti sui 70 al miglioramento dell'illuminazione pubblica che significa sostanzialmente dell'impianto di pubblica illuminazione che significa che l'offerente deve progettarlo e pagarlo di fatto la relazione che accompagnava questa modifica al correttivo ovviamente si riferiva a che cosa agli appalti in genere perché a questo scamotage non è che si ricorre ricorrono solo i miei colleghi tecnici che progettano opere pubbliche ma anche chi fa l'appalto per il servizio di ristorazione attribuisce i 10 punti di punteggio a chi rifà tutta la cucina comunale quindi richiedendo forniture di attrezzature eccetera eccetera aggiuntive si ipotizzava che il contrasto a questo tipo di pratiche riguardasse forniture servizi e lavori voi pensate che sia così se non l'avesse deciso un TAR no perché TAR Toscana e TAR Piemonte sono intervenuti su questa norma dicendo che il legislatore nella relazione di accompagnamento aveva esposto questa finalità che riguardava i contratti di gli appalti di servizi di forniture e di lavori però qualcuno dovrebbe fare dei corsi di formazione al legislatore che dovrebbe imparare a scrivere perché se scrive opere e progetto esecutivo vuol dire che nonostante le sue buone intenzioni questa norma può essere applicata solo all'appatto di lavori che per noi è una protezione cioè TAR ci ha aiutato in questa ricostruzione però ripeto viola quello che era l'obiettivo della legge che era quello di evitare che attraverso la parte economicamente più vantaggiosa come dire si sanassero deficienze del capitolato o del progetto chiedendo per definizione come dire di svolgere una funzione di supplenza sulla progettazione laddove l'offerta economicamente più vantaggiosa serve a migliorare il progettato ma il progettato deve essere già ben progettato e poi può anche essere migliorato vuoi trattare i criteri ambientali? facciamo una cosa qui posso vedere una cosa se ho perché volevo come dire far riazzare le antenne su dei problemi che per ora stanno cominciando a verificarsi in altre stazioni appaltanti ma siccome hanno carattere generale il pericolo è che si propaghino anche a noi ecco quindi è come la storia per esempio non c'entra niente con questo c'entra poco ma c'entra l'appalto per i servizi per la raccolta dei rifiuti ne parlavamo due giorni fa è arrivata una sentenza del Consiglio di Stato che smettendo un precedente orientamento che non era mio era del Tar del Lazio del Tar Veneto eccetera eccetera sosteneva che il servizio di raccolta trasporto conferimento e smattimento e recupero dei rifiuti fosse un processo tecnico come servizio di rico integrato unitario e discendibile e che quindi tu dovessi appaltare tutte le fasi assieme e così avevamo in qualche modo operato ecco identificando lo smattimento e il recupero per il quale si richiede una qualificazione diversa come parte scorporabile e quindi subappattabile attraverso una forma che era quella dell'indicazione dell'impianto al quale il rifiuto sarebbe stato conferito il Consiglio di Stato smonta totalmente questa configurazione ora non so a quanti possa interessare la questione però i servizi di appatto per i rifiuti lo facciamo tutti quindi e dice no non è così perché le due sentenze che sono venute alla mia condizione Tarbene e Tar Lazio partono da un approccio sbagliato dal punto di vista tecnico perché dove sta scritto che raccolta trasporto conferimento e smaltimento non possono essere separati posto che ognuna può fare una frazione ma non solo è sbagliato anche da un punto di vista giuridico perché siccome è diversa la qualificazione in quanto io chi fa la raccolta il trasporto e il conferimento devo qualificarlo sulla base dei servizi prestati nel triennio precedente e forse con l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali vabbè perché riapre la questione se è un esecuto di qualificazione requisito di esecuzione che sembrava sopita invece questa sentenza la riapre invece lo smaltimento recupero non può essere fatto da chi è scritto all'albo dei gestori ambientali ma deve essere fatto da chi è titolare di un impianto assistito dall'autorizzazione integrata ambientale dall'agua ora cioè allora essendo le qualificazioni diverse devi fare tendenzialmente due parti diversi e non devi metterle assieme da un altro punto di vista perché siccome il mercato è un mercato di tipo monopolista oligopolista nel momento in cui tu imponi che partecipi attraverso le RT o che il soggetto che ha la qualificazione per l'escazione all'albo di gestori ambientali e la titolarità dell'impianto assistito da agua significa che riduci la concorrenza talmente tanto da rendere il mercato non oligopolista ma monopolista in un ambito territoriale ristretto posto tra l'altro che i rifiuti come sapete secondo il codice dell'ambiente devono essere conferiti in un ambito territoriale ristretto quindi se unisci tutto quindi la scelta è che devi fare due parti separate non so perché abbia deviato su questa cosa ma l'altra questione per esempio è a proposito della verifica della nominata delle offerte mi limito veramente a fare un breve cenno a delle questioni controverse e sapete che il nuovo codice ha rispetto al precedente che fissava in maniera strutturata il procedimento per la verifica della nomina delle offerte il codice nuovo dice che deve essere rispettato lo si ricava il principio del contraddittorio e l'unico termine che assegna è quello minimo di 15 giorni per l'acquisizione delle relazioni ovviamente ci si è chiesti nell'ipotesi in cui le relazioni che presenta il fornitore l'operatore la cui offerta è considerata anomala siano incomplete che cosa faccio lo escludo posto che il codice nuovo non prevede più il sub procedimento svolto in tre fasi che erano 15 più 7 per le integrazioni più 3 minimo per l'audizione personale dell'operatore economico e allora si sono pronunciati anche in questo caso due tar nella documentazione che vi darò ce n'è una del tar marche che dice no perché era un po' il discorso che faceva prima l'avvocato la torraca il procedimento di affinamento dei lavori pubblici è un procedimento speciale che ha regole sue ma dobbiamo tenere conto che viviamo in un ordinamento che ha una legge generale sul procedimento amministrativo che dà dei principi uno di questi principi è quello del contraddittorio che impone nell'ipotesi in cui la documentazione presentata non sia completa di disporre l'ulteriore integrazione quindi devi fare anche se non è più scritto 15 più 7 sicuramente se poi fai più 3 sentendolo personalmente è ancora meglio comunque non puoi scuderlo direttamente va bene quindi ricordatevi nell'ipotesi in cui la documentazione richiesta sia da integrare con gli elementi che servono ovviamente a valutare l'anomalia disponente dell'integrazione documentale altra questione è che a differenza del codice precedente il nuovo introduce delle situazioni nelle quali l'esclusione l'anomalia pare sanzionata ex legge tra questi vi è la violazione dei minimi salariali anche qui non vi dico che produzione giudice prudenziale c'è stata ho raccolto 5-6 sentenze perché ve ne sono alcune in particolare due di giudici di primo grado Tar Calabria Tar Puglia se non ricordo male Lecce che dicono che il riferimento la lettera dell'articolo 97 sul punto è chiara e dice che qualora l'offerta viola i minimi salariali deve essere esclusa perché su quel punto non si possono presentare giustificazioni l'interpretazione della giudice prevalente del Consiglio di Stato sta andando invece in una direzione diversa dicendo sostanzialmente questo uno la norma è mal scritta quindi io la riscrivo dice il Consiglio di Stato e la riscrivo come i riferimenti sono due uno è quello dei minimi salariali che sono inerogabili e che sono quelli previsti dai contratti collettivi di categoria dei contratti cioè che hanno contenuto normativo che i contratti collettivi di secondo livello non possono derogare quindi il primo parametro è che l'offerta deve stare all'interno dei minimi salariali previsti dal contratto collettivo di categoria ma questo nessuna offerta viola quei minimi perché sarebbe facilmente individuabile la violazione l'altro parametro che invece è quello rilevante in assoluto per valutare l'anomalia è gli indici del costo del lavoro determinati annualmente con tabelle approvate per singolo settore merceologico dal ministero del lavoro della previdenza sociale non so come si chiami insomma dal ministero del lavoro del lavoro del welfare insomma quello che è perché in quel caso però il consiglio di stato dice non muto orientamento rispetto al regime previgente perché quei limiti non sono limiti inderogabili ma sono limiti parametrici vale a dire io siccome quel costo del lavoro è determinato dalla sommatoria di alcuni elementi che sono i minimi salariali a cui si aggiunge il costo delle ferie a cui si aggiunge una sorta di 30% di aumento per effetto della morbidità di cui i lavoratori pubblici e privati ma soprattutto i pubblici hanno in aggiunta le assenze per maternità le assenze per la 104 quindi il costo determinato della serie di elementi aggiuntivi che l'impresa al suo interno potrebbe non avere o potrebbe avere in misura ridotta quindi io devo consentire che l'offerta devo ammettere anche l'offerta che abbia che si discosti dai limiti stabiliti dalle tabelle ministeriali purché questo scostamento sia adeguato e qui ci sta tutto lo scibile umano e sia giustificato quindi se io dimostro che la presenza per esempio perché sulle ferie le ferie abbiamo diritto tutti ma che un'azienda abbia un personale per esempio che abbia un tasso di morbidità inferiore a quello presunto del 30% che determina il costo delle tabelle ministeriali perché sono tutti un'impresa di giovani in buonissima salute e quindi non hanno fatto una giornata di assenza per malattia tutto l'anno io in presenza devo essere in condizione di dimostrarlo e quindi posso dimostrare che quel 30% di maggiorazione dato dalle tabelle ministeriali nel caso mio non deve essere rispettato ecco qua per esempio lo vediamo in questa sentenza che è del Consiglio di Stato giusto appunto recentissima di fine 2017 e che dice anche se è vero che le tabelle ministeriali recanti al costo della mano d'opera espongono dati non indelogabili si deve assolano la funzione di parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi in senso di giustificazione dell'anomalia sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa specie se si considera che il dato delle ore annue mediamente lavorate del personale coinvolge eventi malattie infortuni maternità che non rientrano nella disponibilità dell'impresa e che quindi per definizione necessitano di stima di carattere prudenziale però il dato sostanzialmente è che il costo del lavoro risultante delle tabelle ministeriali a differenza di quello che dal punto di vista letterale potrebbe derivarsi dall'articolo 97 non è indelogabile grazie grazie